Ciao a tutti ragazze, eccomi finalmente con un nuovo video, sono finalmente ufficialmente in ferie, anche se comunque ho davvero tanto da fare, perché come ho già detto tempo fa, devo trasferirmi, spero a breve, dico sempre a breve, ma in realtà non si sa ancora precisamente quando. Comunque spero di riuscire a fare più video, ora che appunto dovrei essere in ferie e vacanza, almeno fino a settembre che inizio la scuola. Quindi, il video che vi propongo oggi è un video sulla mia collezione di scarpe, non ci saranno tutte le scarpe che ho, ma semplicemente quelle che uso un po' più spesso. A volte ci sono dei paia di scarpe di cui è inutile dirvi il marchio, semplicemente perché sono delle scarpe che mi sono fatta fare praticamente su misura, poiché i miei genitori commerciano scarpe da sposa e accessori da sposa, appunto, e io il piede è molto piccolo, me le sono fatte fare su misura praticamente. Comunque vi spiegherò nel video, vi farò vedere appunto tutte le scarpe che ho, ditemi quella che preferite. E nient'altro, mettete un like per tutte le scarpe che ho, anche se sono solo una parte della mia collezione in realtà. Iscrivetevi per vedere tutti gli altri video che farò, mettete un like alla pagina Facebook, sul quale appunto dico sempre che metto molte più notizie. Ad esempio, l'altro giorno sono stata ad un primo compleanno e appunto ho messo una foto del palloncino che c'era con Minnie, che era tanto carino. E nulla, mi mando un grosso abrazo, mi mando un grosso basso e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Queste sono le Kawasaki bianche, che hanno una piccola parte in kamosho sul davanti, che è color grigio chiaro, e una parte in plastica bianca. E hanno un disegno nero, stile giornale, come se appunto fosse un giornale. Queste invece sono le Converse, sono Converse basse e viola, molto semplici, senza alcun particolare. Queste sono in particolare appunto le All Stars, le famosissime Converse. Queste sono le Nike bianche, con tre strappi e il buffo blu, cioè con il contorno blu e all'interno unirlo. Il buffo sarebbe il simbolo della Nike, per chi non lo sapesse. Sono comodissime, pagate veramente poco e utili. Queste sono le mie adorate adidas, io adoro tutte le adidas praticamente, queste sono alte, e hanno tre strisce viola, anche se in camera non si vedono bene, e il resto appunto sono tutte bianche. E la parte dietro appunto anche, è di un viola un po' diverso dalle strisce. Altre adidas, questa volta sono nere, sempre alte, nere e argentate, appunto con le tre strisce argentate, e anche sulla caviglia una piccola striscetta argentata, così come anche dietro, cioè questo pezzettino argentato, sono fantastiche per tutti i giorni. Passiamo alle scarpe aperte. Queste scarpe vi ho già fatto vedere in un cena per tutti i mesi, e sono appunto questo infradito all'acetella caviglia nere, con questo dettaglio della foglia, ricoperta completamente di strass neri appunto, molto comode e utili per l'estate. Queste ballerine sono di prima donna, sono color crema, con la parte in avanti nera in vernice, e un fiocchetto nero, la parte in color crema è di similpelle, credo, all'incirca. Queste scarpe le ho acquistate su un sito che si chiama alexo.it, che sono favolose, sono degli stivali di un color crema molto chiaro, con una parte in ricamo e appunto la fibietta adorata, bellissime, io le adoro. Iniziamo con i tacchi, questi sono dei tacchi neri, cioè scarpe con il tacco nere, con 4 o 5 fibiette, 5 fibiette. Il tacco è un tacco 10, non sono di nessuna marca in particolare, perché le ho trovate in un negozio random, credo sia Francesco Miano la marca, ma non sono sicura. Queste sono delle francesine color grigio scuro, completamente in camoscio e con i lacci. Anche di queste il tacco dovrebbe essere tacco 10, acquistate al mercato, quindi non ricordo una marca minimamente. E infine questo è l'ultimo paio, ovvero le scarpe che ho indossato al mio 18 anni, le ho fatte fare su misura, quindi non sono di nessuna marca. Sono color dorato con i riportini neri, tacco 13, però hanno questo plato, sono comodissima, sono bellissima, io le adoro, le mie preferite in fine conti. Niente, questo è tutto, al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!